Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Allah, il Clemente e il Misericordioso. Cari ascoltatori, il nostro sermone oggi è diviso in due parti. La prima parte porta il titolo Lezione dalla Sura di Isra, o il viaggio notturno, come ha sottolineato il nostro Corano. Ma prima di tutto l'odio ad Allah e gloria a colui che di notte trasportò il suo servo dalla Santa Moschia alla Moschia Rimota a Gerusalemme. È testimonio che non c'è altro Dio che Allah, è testimonio che Muhammad è il suo servitore e il suo messaggero. Baccia e prendizione di Allah sul profeta, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti coloro che seguono fidelmente il suo corso fino al giorno del giudizio universale, seguitando nel merito. Nella prima parte parliamo di una cosa molto importante, di quella dell'Isra, oppure il viaggio notturno. Allah ha sostenuto i suoi messaggeri con grandi miracoli. Uno di questi miracoli è il viaggio notturno del profeta Muhammad, baccia e prendizione di Allah su lui. Di questo il Corano stolinea, gloria a colui che di notte trasportò il suo servo dalla Santa Moschia alla Moschia Rimota, di cui è benedicemmo e dintorni, per mostrargli qualcuno dei nostri segni. Egli è colui che tutto ascolta e tutto osserva. Questo miracolo divino ha molte lezioni da apprendere, come ad esempio confermare il potere assoluto di Allah, l'onipotente perché il potere di Allah non ha limiti né si basa sui mezzi né sugli strumenti. Ma Allah, come afferma il Corano, quando vuole una cosa, il suo ordine consiste nel dire sì, ed essa è. Conferma che la felicità nasce dalla miseria, perché dopo la tortura e la persecuzione che il profeta ha inflitto agli infideli, lo ha portato in questo viaggio notturno per sostenerlo in quei tempi difficili. Il Corano sottolinea, dopo i tempi difficili arrivano i bei tempi. Il Corano sottolinea inoltre la grande importanza di essere un buon servitore di Allah, come afferma il Corano nei suoi versetti, e ha rivelato al suo servitore grandi rivelazioni. Evidenzia anche la posizione di rilievo che Gerusalemme ha nell'Islam, perché è stata la prima Qibla, oppure orientamento della brighera dei musulmani, ed è il terzo luogo santo nell'Islam. Speriamo di essere presto restituito ai musulmani. Conferma anche la grande importanza delle brighere nell'Islam. Il punto di riferimento è che quando il profeta Muhammad, bacio e prevenzione dall'Asso di Lui, viaggiò e salì al sesto cielo, vicino al loto del limite, presso il quale c'è il giardino di Ma'wah, lì Allah le diede tre cose, le cinque brighere, gli ultimi versetti del Corano, della sura del Bakara, o la Fakka, e il perdono dei peccati dei suoi credenti, perché non si associano ad altri dei con Allah. Inoltre, questo viaggio rivela i punti in comune tra le religioni. Il profeta disse, tutti i profeti sono coniati, hanno madri diverse, ma la loro religione è una sola. In quel viaggio notturno, tutti i profeti brigarono dietro il profeta Muhammad, come stulinea la storia islamica. Quel viaggio distingue anche i veri credenti dalle altre. Abbiamo in Abu Bakr un grande esempio, quando i non credenti dissero che Muhammad sosteneva di aver fatto un viaggio notturno a Gerusalemme, e tornò la stessa notte, quindi disse loro che credeva in più lui di quanto credesse di essere stato ispirato da Allah. Dico questo è in loro il perdono di Allah per me e per voi cari ascoltatori. Adesso noi trasportiamo, oppure ci muoviamo alla seconda parte di questo sermone, in cui parliamo delle lezioni espirate dalla sura di Al-Isra, oppure il viaggio notturno. Ma prima di tutto, infatti, loda ad Allah, il Signore dei Mondi, testimonio che non c'è altro Dio che Allah, l'unico, e testimonio che è il nostro maestro profeta Muhammad e il suo servitore e messaggero. Bace sull'ultimo profeta e messaggero di Allah e sulla sua famiglia e sui suoi compagni e su quelli che li seguono con carità fino al giorno del giudizio universale. Quindi, mie sorelle e miei fratelli nell'Islam, la sura al-Isra, oppure il viaggio notturno, si riferisce solo a quel viaggio benedetto, ma anche al buon comportamento verso i genitori. Il Corano sottolinea Il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che lui e di trattare bene i vostri genitori. Questo perché i genitori non affrontano solo delle difficoltà quando educano i propri figli, ma anche per quanto accade durante la gravidanza. Il profeta comandò i credenti di trattare i genitori con gentilezza, in particolare la madre. E quando uno dei compagni voleva partecipare alla battaglia, il profeta gli chiese di rimanere a casa per sostenere la propria madre, indicando che il sostenimento della madre è migliore della battaglia sul sentiero di Allah. Inoltre, la nostra religione ci commanda di obbedire ai nostri genitori di essere clementi e compassionevoli con loro, perché queste lezioni vengono tra le cose che fanno Allah perdonarci e farci entrare nel suo paradiso. Concludendo, sottolineiamo la necessità di obbedire anche ai nostri leader e ai suoi rappresentanti nelle associazioni pubbliche, ciascuno nel suo campo di competenza. Quindi non si dovrebbe, come sottolinea la nostra religione, sbarrare dei tali competenti. Da parte sua, il ministro dell'Aucaf mette in guardia contro le pagine e i siti sospetti che cercano di diffondere le false notizie e le bugie. Si dovrebbe anche prendere le indicazioni e le informazioni dalle istituzioni statali e ufficiali che ci forniscono con le attendibili informazioni. Oh Allah, mi dia il potere di rimanere fedele a Te, mantieni i nostri genitori e il nostro Gito e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto.